E' male si affrontano, stando all'ombra, dove vuole stare? Anche Arezzo nella morsa del caldo e dell'AFA al pronto soccorso a Retino nella giornata di sabato si è registrato un vero e proprio assalto con 266 accessi, numeri toccati solamente nei picchi per l'influenza a febbraio e nei giorni a ridosso delle vacanze di Natale. Sono persone che arrivano in condizioni non direttamente legate al caldo, nel senso che non abbiamo avuto i colpi di calore o malessere. Il caldo sicuramente provoca un disagio, ma raramente si arriva a un disagio così forte da portare al pronto soccorso. Le fasce più a rischio sono sicuramente per i bambini e gli anziani, soprattutto quelli che fanno terapie importanti. Giornate di intenso lavoro anche alla centrale del 118. Anche nel nostro territorio abbiamo un aumento delle chiamate, chiamate che possono trattarsi soprattutto di persone anziane, persone anziane quindi per malori, giramenti di testa e anche piccoli incidenti magari dovuti proprio a malori in seguito a queste situazioni. La giornata più calda dell'estate 2018 sarà quella di giovedì 2 agosto. Arezzo resta una delle città più calde della penisola con massime al di sopra di 36 gradi. Non resta dunque che prepararsi ad una lunga settimana di fuoco, seguendo però queste piccole accortezze. Non esporsa al caldo e alle ore più calde della giornata, idratarsi adeguatamente, mangiare cibi che non danno una reazione eccessiva di calore. Magari bere un pochettino più acqua, ma se non comincia a dire calde, calde, caldo è finito. E allora non ci pensa. Magari bere un pochettino più calda.